è uno scandalo perché più di 21.000 voli sono stati cancellati, milioni di passeggeri sono a terra e più che altro sono delle zone remote e delle isole. Questo perché? Perché è un monopolio, questo signori è un monopolio a spese dei cittadini. Fatto con cosa? Con i soldi dei cittadini per l'appunto, con i contribuenti, con i contributi che regioni e comuni danno a Ryanair per mantenere i voli sui propri territori. Benvenga l'inchiesta della Commissione europea. I cittadini vanno, i consumatori vanno tutelati, ma secondo noi vanno non solo rimborsati, ma vanno risarciti. Attenzione anche alla tutela dei diritti dei lavoratori, però, perché noi vorremmo capire se il periodo di riposo proposto dall'azienda a fronte di un corrispettivo economico si allinea con il pieno rispetto della condizione psicofisica dei lavoratori di Ryanair. L'Unione europea non si può tirare indietro, non si può girare dall'altra parte, e anche se si tratta di una mala gestione dell'azienda, oppure se si trattasse di un'operazione di mercato, ossia si stesse mettendo da parte risorse per acquistare slot aeroportuali o compagnie più piccole, a noi importano i diritti dei cittadini e dei lavoratori. Grazie.